Sì, abbiamo fatto una buona gara sotto tutti i punti di vista, anche perché siamo entrati con la giusta mentalità in campo e questo è stato più facile, perché quando entra in campo concentrato e determinato le cose vengono più facili e di conseguenza questo risultato ci aiuta per il morale e soprattutto per la classifica. Sì, è molto importante, infatti adesso dobbiamo continuare su quest'andazio e continuare a tenerci le squadre sotto per salvarci tranquilli. Il calcio è fatto di episodi, però dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto una grandissima partita, loro non hanno creato occasioni, anzi quasi niente, le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi ed è stato giusto secondo me il risultato. Sicuramente andremo con una mentalità diversa, sappiamo che non dobbiamo perdere e dobbiamo fare il risultato perché i punti a Vercelli valgono doppio, quindi bisognerà andare là con la giusta determinazione.